Noi alunni delle scuole secondarie di Chiams andremo, agenza commerciale Gran Fiume, a fare delle domande. Il tema di oggi è, sapresti dare delle indicazioni ad un ragazzino? Sì, dove ti sta? Qua? Allora, dentro, dritto, e poi la sinistra. Quindi dove andare? Sì, sulla sinistra. Sì, per di là? Sì. Allora, dentro è sempre dritto e sulla destra è al bivio. Cioè c'è il bivio, tu guardi a destra, è lì dell'angolo, vicino alla pizzeria. Ah, sì, è vero. Sì, grazie. Scusi, c'è un posto dove si mangia bene? Dove si mangia bene qui? Insomma, è l'altro il McDonald's, qui avanti nel Way West. Ma qualcosa che non sia tipo hamburger? Tu lo so, scuola, dai. Beh, qui dentro c'è tipo un giapponese, cinese, qui dentro. Eh, ho provato, quando si mangia bene. Eh, se no c'è Mela Rossa. Ah, ok. Però... E cosa fa ad arrivare la Mela Rossa? Eh, dove potete andare anche per dietro, conoscete la zona qua? Spiammere. Dietro Decathlon. Sì, ok. Andata verso Decathlon. E, allora, per esempio, è Decathlon, oddio, Piazza Italia. Sì. L'ultimo è Mela Rossa. Ah, vabbè. Tutto è quella parete lì, l'ultimo locale è Mela Rossa, si chiama, che è cinese, giapponese, italiano, un po' tutto misto. Sì, è finito. Niente. Scusate. Mi sono completamente perso, mi potresti dare delle indicazioni per arrivare a Cionso? Eh, tu. Io non sono in questo senso di arrivare. Eh, oddio. Devi tornare indietro. Ok. E poi... Ok, abbonio. Sì. Fai la strada che affianca la chiesa. Ok. Fai sempre dritta. E arriva. Poi arrivi a Villotta. In feria dopo via Chiosi. Eh, arriva. Grazie mille. Prego. Non sono di qua, io. Sapete un po' che sono? Sì. Dentro qua c'è qualcosa, però in realtà noi veniamo da Portogruaro, quindi più vicino. Allora, c'è qua in parte quello del sushi cinese. Dentro qua o c'è ancora Giovanni Rai? Non so. Non c'è la senza? C'è la pizza, se no, più buona. Non c'è la pizza. Non c'è la pizza. Non c'è la pizza. Non c'è la pizza. Non c'è la pizza, però...